ben ritrovati con la rasegna stampa in studio con voi rosario moreno decreto semplificazioni appalti senza gara fino a 5 milioni di euro e procedure accelerate per le opere di rilevanza nazionale la bozza in 48 articoli punta a sbloccare i contratti pubblici e sburocratizzare il paese previsti un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e l'accelerazione della valutazione di impatto ambientale modifiche alle norme su responsabilità erariale e abuso d'ufficio per far sì che i funzionari rischino di più in caso di omissioni per chi quando omettono la firma appunto per far partire i lavori Francia a scandalo dei rimborsi parlamentari l'ex primo ministro Fillon condannato a 5 anni l'ex premier colpevole di appropriazione in debita di fondi pubblici aveva pagato la moglie come sua assistente con un salario sproporzionato e i suoi due figli per impieghi fittizi manovre che hanno fruttato alla famiglia oltre un milione di euro dalla fine del 1998 Mess Zingaretti dice risorse mai viste basta targiversare Patuanelli dice la posizione del Movimento 5 Stelle non cambia Bordo del PD dice miopi e ideologici Segretario del PD in pressing dice risorse mai viste basta targiversare anche perché rafforzare la sanità è una chiave per dare impulso alla ripresa dopo l'emergenza e indica 10 filoni su cui ragionare dalla ricerca biomedica alla medicina territoriale Le destre cavalcano i problemi e non lo risolvono chi governa il compito opposto dice ma le prime risposte dagli alleati di governo sono solo picche Germania ha scoperta una rete di pedofili 30.000 sospettati sui forum si scambiavano consigli su come adescare i bambini l'inchiesta è partita dalla città di Bersisch Klabach che ha permesso di risalire alle chat il ministro della giustizia del land del nordreno Westfalia Peter Bisenbach a Dusseldorf si è detto scioccato per la diffusione di questo tipo di crimini Bologna carabiniere travolto dai fugghi dai ladri in fuga non è in pericolo di vita i militari dell'arma stanno cercando le persone che nelle prime ore di questa mattina hanno travolto un capopattuglia di 48 anni con non fermandosi all'alta i due farebbero parte di una banda di quattro persone che intorno alle quattro ha tentato un furto in una tabaccheria a Lugo di Romagna nel Ravennate notizie da Napoli e dalla Campania a Napoli 14 arresti nella notte sgominate due piazze di spaccio tra quarto e fuori grotta nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli i carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare di cui otto in carcere e sei agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 14 soggetti ritenuti gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti per uno dei destinatari della misura è stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso per aver favorito nel 2019 la latitanza di un soggetto di spicco del clan Orlando egemone nel comune di Marano di Napoli e quarto morto senza casco sullo scooter senza assicurazione il ricordo in piazza degli amici di Giuseppe decine di adolescenti si sono radunati stamani in piazza della pace nel centro di Marano per ricordare Giuseppe Morra il quindicenne morto ieri pomeriggio per le conseguenze di un grave incidente stradale in piazza sono stati esposti numerosi striscioni il giovane secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale guidava uno scooter Liberty 50 senza utilizzare il casco protettivo il mezzo non era assicurato notizie da Treviso e dal Veneto sarai la luce che illumina il nostro cammino e la lettera d'addio a Elena di mamma e papà domani a paesi funerali della bambina di due anni è stroncata da un tumore al cervello la sua storia commosso medici e infermieri del cafoncello chiuso il cavallino Denis Mistro non rinnova l'affitto e lascia Treviso dopo quattro anni il patron della storica osteria di Porta Santi 40 dice proseguire non ci sono le condizioni dopo il lockdown nessuno ti aiuta ho scelto di evitare un bagno di sangue Grandine e temporale in arrivo allerta meteo nella marca dal pomeriggio di lunedì 29 giugno fino a martedì mattina nuova ondata di maltempo sul Veneto dapprima sulle Dolomiti e in successiva estensione alla zona pedemontana tragedia di Farra di Soligo indaga la procura minorile 16 anni era sta era la guida dello scooter finito contro un palo dell'illuminazione rischia ora di essere scritto con l'accusa di omicidio stradale SA di Valdobiadere nell'incidente ha perso la vita Vittoria De Paoli studentessa di Maser Cassa Integrazione a noi danno solo 5 giorni lo Stato ce ne ha messi 40 e la denuncia della CNA Treviso venerdiscorso 38 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto rilancio sono intanto stati stanziati 258 milioni di euro a beneficio della FSBA Notizie dal Friuli Venezia Giulia tocca ai cavi elettrici un pensionato muore folgorato tragedia questa mattina a sesto al Reghena ancora da definire le cause del drammatico incidente domestico un uomo è morto folgorato appunto questa mattina verso le 9 all'interno della sua abitazione a sesto Reghena da quanto si è potuto apprendere finora stava lavorando a contatto con alcuni cavi elettrici usando una prolunga è rimasto colpito da una forte scarica ed è deceduto coronavirus 0 nuovi casi e nessun decesso in Friuli Venezia Giulia le persone attualmente positive restano 102 mentre i totalmente guariti sono 2861 le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia equivalenti alla somma degli ospedalizzati dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari restano come ieri 102 nessun paziente è in cura in terapia intensiva mentre i ricoverati in altri reparti sono 12 non sono stati registrati nuovi decessi sono 345 in totale Udine muore un ciclista travolto dal furgoncino incidente questa mattina in via Stiria le condizioni dell'uomo erano apparse subito gravissime incidente mortale questa mattina poco dopo le 11 in via Stiria a Udine lo scontro si è verificato tra un furgoncino e un ciclista quest'ultimo cittadino ucraino di 42 anni è parso subito in gravissime condizioni soccorso tempestivamente dal personale medico inviato sul posto dalla centrale Sores di Palmanova purtroppo è deceduto dopo poco a seguito delle lesioni riportate nell'impatto violento contro l'asfalto è stato sbalzato per circa 6 metri birra al parco nonostante il divieto scattano 4 d'aspo la polizia locale di Monfalcone ha pizzicato anche un ambulante che si era posizionato fuori dallo stabilimento Fincantieri continua il controllo del territorio da parte della polizia locale di Monfalcone 5 sono stati d'aspo emessi nel fine settimana per mancato rispetto dei regolamenti comunali in arrivo i temporali allerta gialla sul Friuli Venezia Giulia attesi dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi localmente forti in arrivo i temporali un'allerta gialla appunto una depressione centrata sulla Gran Bretagna con voglia un fronte freddo dalla Germania verso l'Austria e la Slovenia e in parte anche sul Triveneto sono attesi temporali anche forti per questo la protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo gialla su tutta la regione in vigore fino alla mezzanotte bene cari amici con questo è tutto termina qui questa edizione della Rassegna Stampa in studio con voi Rosario Moreno buon proseguimento con la programmazione tantissima Grazie a tutti.